Ha fatto il proprio ingresso nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, Prata Antico, Don Luis Enrique. La celebrazione d'ingresso del nuovo parroco è stata presieduta da Monsignor Riccardo Fontana, che nell'Omelia ha ricordato l'importanza del Ministero del Sacerdozio. Nell'accoglienza del nuovo parroco vale la pena, tanto per intenderci, di spiegare che cosa è un sacerdote. Uno è in capo, un comanda, serve. Gesù, dov'è che ebbe il massimo del potere? In croce, perché riuscì a sconfiggere perfino il diavolo. Questi sono i sacerdoti cattolici. Non avrebbe questo dare la vita. Senso il nostro ceribato. Proprio perché non ci si rega una famiglia, perché ogni parrocchia è una famiglia di famiglie. E se tu ne le lasciassi indietro tutte le altre per badare la tua, non avrebbe questo dare la vita per il popolo di Dio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti